Celebrata questa mattina in Piazza Castello a Benevento la giornata dell'unità nazionale e delle forze armate in ricordo della fine della prima guerra mondiale, l'Italia come noto il 4 novembre ricorda commemorando i suoi caduti l'armistizio di Villa Giusti entrato in vigore il 4 novembre del 1918 che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Treste e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale, una celebrazione solenne che logicamente ha visto la partecipazione di tutte le autorità civili, politiche, militari e religiose che hanno reso omaggio ai caduti, particolarmente emozionante come sempre il momento dell'alza bandiera e proprio quello della deposizione della corona di alloro in onore ai caduti. Sì, è un momento importante perché queste sono cerimonie, come dicevo prima, cerimonie identitarie nelle quali ci riconosciamo come uniti dai valori della Costituzione e della nostra Repubblica e quindi è importante che ci siamo tutti qui. Ho salutato con molto piacere, ho visto che ci sono tanti sindaci anche della provincia di Benevento, alcuni non sono venuti perché anche loro impegnati in cerimonie analoghe sui loro territori. L'importante è che questo, spiritualmente siamo comunque tutti uniti nella celebrazione di questi valori della Repubblica italiana. Eccellenza, lei da poco ha assunto l'incarico qui in città, che Benevento ha trovato? Che città ha trovato? Una città, devo dire, serena, sana soprattutto, un contesto sociale e umano, molto sano, ispirato veramente ai valori profondi umanitari, quindi devo dire che sono contenta perché ho trovato una realtà sulla quale non dico che sarà facile lavorare, che difficoltà ci sono dappertutto, territori, vuol dire, sceveri da difficoltà o da criticità non esistono, però certamente aver trovato questa società operosa, sana, non ispirata a valori negativi mi aiuterà nel lavoro che devo svolgere. Celebriamo oggi la giornata dell'unità nazionale e delle forze armate e appunto come hanno ricordato sia il Presidente della Repubblica che il Ministro della Difesa, il ruolo fondamentale delle forze armate è quello di garantire sicurezza ai cittadini, laddove la sicurezza è presupposto imprescindibile per la libertà dei cittadini stessi, per la libertà di una nazione, quindi dobbiamo tenere bene a mente queste parole e ricordare anche quello che è stato il valore dei nostri caduti che ci hanno consentito di poter vivere oggi e nel futuro la nostra libertà.